Parliamo di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale. In che rapporto stanno? Diverse sono le definizioni di tutti e due i temi. Ne prendiamo una per lo sviluppo sostenibile e una per la responsabilità sociale. Per lo sviluppo sostenibile nel 1987 un rapporto della Commissione delle Nazioni Unite ha precisato che lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alle generazioni attuali di soddisfare i loro bisogni senza precludere la possibilità anche per le generazioni future di poter soddisfare i propri. E invece che cosa è la responsabilità sociale? La responsabilità sociale, se facciamo riferimento al 1979, a quello che è stato detto da Carroll, la responsabilità sociale può essere qualificata come una responsabilità quadripartita in cui c'è una responsabilità economica, una responsabilità giuridica, una responsabilità etica, una responsabilità discrezionale. In che rapporto stanno questi due temi? La responsabilità sociale costituisce la base sulla quale vengono inseriti i piloni della sostenibilità, in particolare la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale.